Il vento è puntualmente arrivato anche nel territorio aretino. I disagi non sono mancati, quelli maggiori in Valtiberina dove sono caduti grossi rami e alberi sulla sede stradale. Episodi simili anche in città come quello in via Fleming nella zona del centro affari ad Arezzo. Uno dei grossi pini che costeggia un lato della strada è stato sradicato dalla propria sede ed è caduto sulle due carreggiate. Sul posto i vigi del fuoco di Arezzo che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e rimuovere la pianta caduta. In piazza San Donato sempre i vigi del fuoco sono stati chiamati per intervenire per alcune piante pericolanti. Nemmeno il sostizio di primavera dunque ha fermato questa ondata di maltempo che ha imbiancato nuovamente la collina di Poti alle porte della città di Arezzo oltre ovviamente alle due vallate montane Casentino e Valtiberina. Per il bel tempo dovremo ancora attendere. Grazie.